Noi come nazionale italiana Under 12 è il secondo anno che veniamo qui a Cooperamontana a fare la preparazione, a scegliere i 18 ragazzi che porteremo a fare il campionato europeo che sarà il primo weekend di luglio quest'anno in Germania. Qui siamo qui con un gruppo di 26 ragazzini che sono frutto di 6 Open Draft che abbiamo fatto in giro per l'Italia durante i mesi di maggio e di giugno. Abbiamo scelto Cooperamontana perché qui si sta bene, è una struttura che ci consente di allenarci nel migliore dei modi, c'è un bellissimo campo e c'è una struttura che ci ospita a dormire, qui vicino al campo, dove riusciamo veramente a stare bene, a fare tutto il programma che ci siamo prefissi prima di venire qui. Che dire, Cooperamontana è sempre una sicurezza, i volontari che lavorano in questo campo meriterebbero un monumento per la disponibilità e per come tengono queste strutture. quindi speriamo di tornare anche il prossimo anno perché qui si sta veramente bene.